Ragazzi, il momento di tutti aspettavate, ora dobbiamo andare al caffè di Flo perché c'è Mecca che ci aspetta Sì, ciao C'è Mecca che ci aspetta perché dobbiamo andare a fare la prima nostra gara Piston Cup Vai Quindi alleniamoci il più possibile Alleniamoci spesso sulle derappate Scusa, Cricchetto, non volevo Ehi, ciao Doc Ehi, cosa hai per dimostrare? Niente, ma se mi stai pure in mezzo Alleniamoci sul turbo, anche se non si può dare Oh, c'è un segno Vedere a parte Eh, l'unico a casa non lo faccio Vabbè dai Sappiamo come si fa Quindi, niente di importante Aia Andiamo Autodromo di Palmile Figo Le gare Piston Cup durano in pantinina Perché ogni gara ha 12 giri Ehi, Saita Sei pronto per la prima grande gara della stagione? Sono pronto e pompato Pompato Se lo mi pompa ancora Vedrà la pezzina Credo che mi scorterà Il calcio per il morto Dai una gara Che stella fa Mac è un po' matto Non sempre A volte è serio Però Eh, questo è il nostro campione Che gareggia Non solo Sulla sterrato Per dimostrare chi è Eh, lui è il campione di tutti Ecco Ecco Sarà Cic contro Saita questa volta Il Cic non volerà tanto facilmente il trofeo Sentami qui Meglio che ti guardi le spalle Eh, quello lì è il cronista da RK Trip Anche lui ha corso Ehi, Guido Tutto pronto? Fistò al capo? Oh oh Ma è tanto Ah, sapessi Guarda qua Buona lezione Me lo vuoi? Sai che non Beh, sai Ho pensato che volessi vedere bene il panorato Capisco Perché passerà di molto tempo Durante la gara Durante la gara Io sono davanti Tu sarai dietro di me Nella casa E' colpa mia Che cos'è? Che cos'è? Non ci capisco Sei così determinato Cic È questo che mi piace Ehi, tu Torna a tuo box Non infastidire il mio pilota Peccato che il tuo capo Non sarà sulla pista A mandare al suo Bambino Vai, scusami Ehi, cosa ti prende? Ah, bella questa Eh Cicchiex è un proprio Pondura Un bastardo Mo Mo Io faccio vedere io Chi sono Sono certamente Oh, ma non ti piace Piano, piano Ehi C'è che ruona Com'era? Piano, piano Mamma mia Eh Dai Caricati Ecco l'autodromo di Palmail Come al solito Saetta Lo fanno arrivare ultimo Proprio per farmi Faticare Via, si parte Voilà Ecco Quei numeri che stanno sopra I vari concorrenti Vuol dire Quali sono le loro posizioni Però si vede anche sopra Che sono Che sono decimo Cavolo Non è una bella cosa Ora sono quinto Dai che posso arrivare quarto Dai, vedi Quarto No Ah, mi ha superato Quel tonto Vieni qui Cercate di andare a sbattere Poche volte Perché non sarà Una bella cosa Così Cheek Rivecuperà La sua Ecco qui Quasi sempre bene Se poi le auto Mi vengono addosso Poi CX Mi fa pure male Perfetto Uno Un paristrada C'è Cercate di andare a sbattere 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 Non è proprio Non è proprio Faccio perché infatti se sono uscite da lì Ma è una bella cosa Mi fa Quale questa Ah, siamo a 5 giri su 12 Se ne mancano ancora 7 E se già noi arriviamo a 6 giri Siamo a metà dell'opera Eh, sì, sì Ah, 310 km all'ora Ma è arrivato fin qua Ecco, cercate Quando siete in testa Cercate di andare a sbattere Il meno possibile Sulle macchine Perché non è una bella cosa Dopo Ia è quello Quello che sta al secondo posto Può rimontare facilmente Allora Ah, siamo a metà dell'opera Bene, ragazzi Bene, bene Dopo gli sarà il secondo capitolo Ovvero la seconda parte Di Cars Motore d'oggetto Eh, sì Non so se stai più attento Eh, non potrei Eh, sì Credo sia ora di eseguire un pit stop Però non potete farlo Finché non mi compare Finché non compare L'immagine Ma non posso eseguire un pit stop Che mi si stanno danneggiando Le vuote Ecco Sono diventate osse No, mi ha usufriato Che sfortuna Oddio Eh, guardate come si sposta Eh Anche bene mi sto spostando E il pit stop E niente A te guarda Dai 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 Sono prima di nuovo E mancano quattro giri Perché siamo otto Dai 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 Cosa facciamo il rifornimento? Metti i tasti e vedete che è fatto. Ora, cambiamo la ruota. Ecco, cambiamo questa ruota. Ecco, fatto. Poi puliamo i... Puliamo gli occhi. Perfetto. Ce l'hanno messo pochissimo tempo. Ora vedrete che rimontiamo in un batter d'occhio. Guardate come sono. In vantaggio. Oddio, l'indicatore sta diminuendo. Beh, non è una bella cosa. Ehi ragazzi, che te non vedi? Che c'è il tuo destino? Beh, non è il tuo destino se ancora non hai vinto. Senta, a volte si vanta un po' poco, eh. E siamo a nove giri, ragazzi. Dieci giri! Ne mancano pochissimi. Due soli. Dai che diventiamo dei pro. Dei geni. Ah, dai. Oh, non mi venite addosso. Se ci fate pure post. No, ormai la vittoria è mia. Se non mi metto a fare il tonto, è mia. Beh, io non è che le amo tanto queste gare Piston Cup, eh. Non so essere sincero. Vabbè, se qualcuno le ha non ci posso fare niente. Per ultimo giro. Dai che siamo quasi arrivati. No, aspetta, adesso mancano due giri. Prima ne mancavano tre, ora ne mancano due. Dai che diventiamo pro, dai. Dai che sto diventando un genio. Il bello è che KKC, che quello lì blu, si devono accontentare del loro posto. Del loro ultimo, del loro secondo posto. Ultimo giro! Guardate come sto rimontando, ragazzi. Guardate qui come il mio indicatore, lì dove c'è scritto in testa, come si alza. Guardate, già è arrivato a dieci. Ecco, scommettiamo che fra un po' lo diminuisce. Eeeh, sono un figo. No, 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 non andare fuori stai. Sììì, siamo noi i campioni. Scommettiamo che ho vinto? Volete scommettere? Yeah! Allora, vediamo. KKX è arrivato terzo e che l'altro diventava sempre secondo. Wow! Vediamo. Primo site, secondo Starry Grip. Terzo KX. Quarto Ligy J.R. Cos'è? Eeeh, quinto Hollister. Ma cosa ce ne frega? Continuiamo la nostra storia. No, non salvare, salvare dopo. Tonto. Ora spezziamo, mamma mia, quanto è lento. Eeeh, stare indietro non è facile, eh. Eeeh, un po' noio. Vai che sennò mi finisce il tempo. Dai! Broce, caricati! Oh! Sei pronto per caricare? No, non sono pronto, ho appena finito. Bene ragazzi, prossima parte, la seconda. Ciao! Ciao!